Il titolo dell'evento racchiude bene il senso del nostro messaggio. Una, perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta anche per tutte le altre. Nessuna, perché nessuna donna deve più diventare una vittima. E centomila, come le voci che speriamo si uniranno alle nostre per questo grande evento. Mi sembra un titolo di un libro molto importante, che accomuna, che fa... Noi siamo delle testimonial di quello che una da sola non ce la fa. Ce la fa se siamo vicine a questa causa con tutte le altre. Il 19 settembre saremo tutte unite a cantare a Campovolo per cercare di dare un aiuto, un sostegno reale e concreto per questa giusta causa. Forza così, mi raccomando, tutti quanti insieme dobbiamo essere pronte ancora di più a sostenere. Quando ci siamo unite tutte per cercare di sostenere cause che ci stavano a cuore. L'adesione è stata pazzesca. Abbiamo avuto una partecipazione da parte della gente incredibile, indimenticabile. Il microfono rosso. Noi cantiamo, noi usiamo la voce nella musica per dire, per esprimerci, per raggiungere le persone. E quindi il microfono è il nostro strumento primo, primario. Perché il microfono in questo caso è anche un megafono per divulgare, per manifestare il dissenso, per tenere l'attenzione, concentrare l'attenzione su questo che diventerà un'emergenza nazionale che è un problema serio. La serata si svolgerà ovviamente tra canzoni, sorrisi, messaggi ovviamente positivi attraverso la musica e insieme alle nostre band che ci hanno sempre accompagnato sul palco. Ma la cosa bellissima è che avremo un artista uomo! Stavolta abbiamo coinvolto anche i maschietti, anche gli uomini. Gli uomini devono combattere insieme alle donne contro le ingiustizie, contro la violenza e quindi è giusto che stiano al nostro fianco in una giornata così importante. Dare valore allo scambio fra l'uomo e la donna perché è quello a cui dobbiamo puntare perché molte di queste tragedie che avvengono, secondo me, risiedono in una mentalità, in un modo di pensare che si è sedimentato in tanto tempo e quindi noi dobbiamo agire lì e cambiare il modo di pensare. E quindi l'esempio di uno scambio musicale fra sessi diversi credo che sia perfetto per far vedere quanto si possa essere diversi e simili, uguali e uniti. Le donne quando si riuniscono sono forti insieme, fanno squadra. Questo evento attraverso la musica vuole cercare proprio di aiutare soprattutto i centri antiviolenza che fanno, quindi ovviamente tutte le donne, le famiglie colpite, i figli di queste donne. Noi facciamo un concerto che ha come scopo principale donare a quelle associazioni che aiutano le donne che sono state violentate e con i loro figli anche, che quindi coinvolge anche una sfera che a me tocca moltissimo. Il ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza, non abbiamo ancora definito quali, ma stiamo studiando appunto quali sono i centri antiviolenza accreditati, quelli che stanno sul campo da tanti anni, quelli che possono accompagnare le donne non solo ad ascoltarle, ma accompagnarle nel mondo del lavoro, nel rifugio. Insomma, i problemi sono tanti, per cui noi lavoreremo per questo e faremo in modo che tutti i nostri soldi siano trasparenti e tracciabili, tutti. Il messaggio è importante, bisogna parlare, bisogna gridarlo forte a tutti e tutti devono ascoltare quello che le donne hanno da dire. Forse anche questo ci ha fatto pensare di riunirci ancora, perché fino a quando queste violenze non finiranno, non avremo neanche noi finito di cercare di farle tacere, insomma. Forza così, mi raccomando, tutti quanti insieme dobbiamo essere pronte ancora di più a sostenere. La musica è un privilegio, il privilegio di poter provare a dare una mano. Ci fa sentire sicuramente, oltre che privilegiate, anche più vicine a tutte le donne, perché comunque, come vedete, si può stare unite. Sì, ci siamo schierate insieme, perché insieme possiamo e facciamo la differenza, perché non ne possiamo più, basta donne vittime. Stiamoci vicine, noi sette siamo tutte vicine per questo motivo, venite anche voi, dobbiamo essere centomila. Grazie a tutti.